Far conoscere e divulgare il patrimonio delle scuole napoletane ed in particolare degli antichi strumenti scientifici posseduti dagli istituti, metterlo a disposizione di tutti ed allestire un museo scientifico virtuale. Sono questi gli obiettivi del protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e l'Università Federico II, la rete di scuole NEMO e l'associazione Scienza e Scuola Onlus. Stiamo creando un sito web in cui comparirà l'intero catalogo delle strumenti strumentazioni storico-scientifiche delle scuole napoletane in cui compariranno delle schede tecniche, delle strumentazioni con delle foto e stiamo anche cercando di creare una serie di filmati sperimentali per aiutare i docenti interessati, le scolaresche interessate all'utilizzo di queste strumentazioni anche laddove non è possibile venire in visita alle scuole nostre quindi anche a livello di altre regioni, di altre scuole. L'idea è quella di ampliare questa rete NEMO che al momento è costituita solo da 6 scuole a tutta la città. Storicamente la città di Napoli è sempre stata leader in campo scientifico e vogliamo riprendere questa tradizione andando a recuperare queste strumentazioni splendide, meravigliose che inorgogliscono noi docenti delle scuole storiche appunto che creano un senso di appartenenza negli studenti. Le scuole storiche napoletane hanno un patrimonio culturale di antichi strumenti che è paragonabile a quelli universitari ma al contrario di quelli universitari è pochissimo conosciuto e rischia di espressione, bisogna fare qualcosa. Nell'ambiente della scuola si sentono certe volte isolati abbandonati dagli ambienti universitari perché in realtà la linfa vitale è nella scuola ed è lì che vengono i giovani universitari. Quindi credo che sia estremamente importante moltiplicare i contatti e le internazioni dirette che sono molto più efficaci che non i programmi di collaborazione ufficiali. Bisogna lavorare assieme e questo è un esempio di bel lavorare insieme. Mette insieme le parti migliori della città impegnate nel recupero di un patrimonio che come è stato detto spesso non è conosciuto, è ignoto e più ed è il patrimonio di conoscenze, di evoluzioni delle conoscenze testimoniato dai gabinetti scientifici, dagli archivi, dalle bellezze monumentali di cui sono depositari le scuole napoletane. E quindi l'associazione Nemo, costituitasi tra le scuole, l'università Federico II, il suo dipartimento di fisica, l'associazione Scienze Scuola, firmano un protocollo come il Comune di Napoli per dare massima visibilità a questo patrimonio, per fare in modo che possa essere conosciuto e fruito non soltanto dagli allievi ma anche da tutti i cittadini.